Verità relativa. Che significa che siamo divisi in gamme percettive? Commento. Tutti siamo divisi in gamme percettive, perché ciò che sembra a me non sembra agli altri. Il fatto che a me e a molti altri sembri nella stessa maniera, significa che io ho in comune con molti altri una verità relativa.